Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano, costui è davvero il profeta. Altri dicevano, costui è il Cristo. Altri invece dicevano, il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la scrittura, dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo. E tra la gente, n'ha con dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero loro, perché non lo avete condotto qui? risposero le guardie. Mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei riplicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse, la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa. Gli risposero, sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che della Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua.